Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi per questa terapia che a breve spiegherò Nicoletta, la nostra Nicoletta, che presta al suo avviso per la scienza. Allora, guardiamo ovviamente over 50, Nicoletta un po' di lassità dei tessuti e la scelta dal punto di vista tecnologico, in casi come questi, sia per l'età e per il tipo di lassità che dobbiamo trattare, cade ovviamente sui sistemi a ultrasuoni focalizzati, in questo caso il nostro tubo Aironic. Aironic è un'azienda coreana, loro sono effettivamente super per la produzione di tecnologie di questo tipo, soprattutto gli ultrasuoni focalizzati, come dicevo. Questo macchinario ha un meraviglioso schermo ecografico che mi permette di vedere il tessuto nella profondità e decidere il momento giusto per andare a rilasciare il treno di energia. Che cosa fa questa energia? L'ultrasuono focalizzato entra nella pelle, la attraversa senza assolutamente interagire e rilascia l'energia nello strato profondo della pelle, in quella zona chiamata SMAS, che è la parte connettivale interposta tra la pelle e il muscolo. È quella zona che tende con gli anni a diventare lassa, morbida, molle. E quindi i tessuti che gli sono sopra, non più sostenuti, cadono, seguendo la gravità, verso il basso e si accumulano nella zona mandibolare. Quindi noi oggi inizieremo questo percorso, che generalmente è basato su due o tre sedute a seconda del paziente, è una tipologia di problema da risolvere, e poi vedremo, in Nicoletta, il prima e il dopo, fra due mesi, quando tutta quella componente di collagene enorme che abbiamo ottenuto attraverso la stimolazione dei fibroblasti, attraverso l'ultrasuono, verrà ottenuta in modo completo. A presto! Grazie a tutti!